Il vice sindaco di Pisciotta non è incompatibile con l'incadico di direttore generale della IELE. Si è riunito ieri il consiglio comunale che aveva tra i punti all'ordine del giorno la discussione sulla incompatibilità del consigliere Sergio Di Blasi. La questione è stata oggetto di una discussione in bei quattro sedute dell'assise. La richiesta di incompatibilità era stata avanzata dalla minoranza e legata, secondo quanto sottolineato dal consigliere di opposizione Agnello Marsicano, alla violazione dell'articolo 63, in quanto Di Blasi ricopre il ruolo di direttore generale della IELE, società partecipata dal comune di Pisciotta, per una quota superiore al 3%, come documentato dagli atti della società IELE e dalla visura camerale della Camera di Commercio di Salerno. Nonostante le contestazioni e le polemiche, però la maggioranza ha deciso diversamente, confermando la regolarità della posizione di Di Blasi come vice sindaco e consigliere comunale, ritenendo non sussistenti le ipotesi di incompatibilità contemplate dalla normativa vigente. La vicenda potrebbe però non essere giunta al capolinia. La minoranza, infatti, sta valutando l'opportunità di ricorrere ai giudici.